Salve a tutti, bentrovati da Stefano Ghetti. Non c'è ancora spazio per un ritorno alla stabilità atmosferica, l'alta pressione che nei giorni scorsi aveva portato una fase di tempo stabile, caldo, caldo fuori stagione, adesso le cose sono cambiate drasticamente, la primavera sta mostrando il suo volto più capriccioso, è tornata addirittura la neve anche a quote basse per il periodo, le temperature hanno fatto registrare un grosso scossone verso il basso, adesso addirittura stiamo vivendo una parentesi con temperatura addirittura sotto media, dicevo l'alta pressione si è ritirata verso ovest, anche in parte verso nord e questo ha favorito la discesa di queste correnti d'aria fredda che a fasi alterne alimentano i vortici ciclonici che poi portano il brutto tempo su tutto il nostro paese, uno di questi è già transitato sull'Italia, un altro si preannuncia proprio a cavallo del fine settimana, tra sabato e domenica transiterà un nuovo vortice ciclonico che dal centro Italia poi si sposterà verso le regioni del sud e saranno proprio soprattutto le regioni centro-meridionali ad accusare la fase più instabile, ma comunque piogge interesseranno in parte anche le regioni del nord, insomma non se ne esce da questa fase instabile che se tutto verrà confermato ci accompagnerà anche per i primi due o tre giorni della prossima settimana, nonostante a piccoli passi qualche segnale di ripresa dal punto di vista delle temperature comincerà a farsi sentire perché già dall'inizio della prossima settimana cominceranno un po' ad attenuarsi le correnti che scendono dal nord Europa e diventeranno un pochino meno fredde perché arriveranno più da ovest, ma avremo modo comunque di aggiornarci. Intanto mi fermo qui amici, grazie per essere stati con noi, a più tardi.